Amici di UCF abbiamo la fortuna di aver incontrato Jessica Notaro La fortuna è mia! Quando aprimo il gruppo Facebook, lei fu una delle nostre prime iscritte Jessica, come va qui a Fiera Cavalli? Va benissimo, io sono sempre felice, sono rimasta come vent'anni fa quando già montavo a cavallo, ero piccolina, non vedevo l'ora di venire in Fiera Cavalli e sogno ancora come quella volta Noi ci seguiamo sempre, vediamo che qui hai un sacco di persone che ti fermano per fare delle foto quindi ci fa molto piacere Com'è il tuo rapporto con i cavalli? Il rapporto con i cavalli? I cavalli mi hanno sempre salvata da tante situazioni in particolare questa spiacevole ultima che ho vissuto e penso che senza la presenza del mio cavallo non avrei reagito così bene Quindi il valore importante dei cavalli nella tua vita Grazie, grazie Jessica di questo messaggio e a presto